Si chiama La meraviglia in uno scatto, l'esposizione di foto che ritraggono scene di vita quotidiana inaugurata sabato a Palazzo Moncada. 11 fotografi hanno donato alcuni loro scatti di prospettive diverse per un progetto comune. Infatti, acquistando le foto donate dagli autori, si sosterrà un progetto di inclusione per ragazzi autistici. L'iniziativa parte dall'Inner Wheel Club di Caltanissetta in collaborazione con la cooperativa sociale Consenso. La finalità di questa raccolta fondi è quella di aiutare i ragazzi autistici che sono seguiti dalla cooperativa Consenso a intraprendere un percorso di autonomia. Quindi è finalizzata l'inclusione sociale di questi ragazzi e ha un'integrazione nella nostra società. È una meravigliosa iniziativa organizzata dall'Inner Wheelen. La Presidente Pinedame è stata straordinaria nel volerci quasi a tutti i costi coinvolgere in questo progetto e devo dire che c'è stata questa partecipazione davvero piacevole. Abbiamo messo a disposizione alcuni, due scatti a testa per raccontare un po' il nostro modo di vedere le meraviglie del mondo. La meraviglia è uno scatto. Cosa? I nostri occhi fermano ritenendolo meraviglioso. Qua devo dire che c'è una grandissima qualità di meraviglie. Ogni fotografo ha proposto ciò che il suo occhio ha ritenuto meraviglioso. Ma la cosa più meravigliosa è stata il fatto che 11 fotografi si siano donati, regalati, per un progetto più alto, per un'associazione che si occupa di persone che hanno necessità, ma non necessità economiche, necessità di affetto, necessità di amore. E secondo me l'Innerwill con questa iniziativa ha veramente centrato l'obiettivo.